È stato ancora il finanziamento lampo da 10 milioni di euro concesso da Banca Etruria alla Holding Isoldi di Forlì al centro delle ultime testimonianze al processo per il crack di Banca Etruria che vede seduti sul banco degli imputati 25 ex consiglieri di amministrazione, ex revisori ed ex dirigenti dell'Istituto di Credito Aretino, accusati a vario titolo di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta. Sono stati infatti ascoltati in aula i testimoni dell'accusa, dipendenti dell'ormai ex Banca Etruria che si sono occupati della concessione. Un finanziamento mai rientrato che ha ovviamente generato sofferenze che alla fine si sono andate a sommare alle altre, mandando in default l'Istituto bancario. La pratica Isoldi fu deliberata in banca il 29 luglio 2009 e il giorno dopo il Comitato Crediti aveva già autorizzato il finanziamento nello stesso giorno, poi alle 14.45 il denaro era già disponibile. La pratica tra l'altro non conteneva documenti con il bilancio dell'Isoldi Holding e nessuna indicazione sui rischi nonostante sia stato stimato che lo stesso gruppo avesse un'esposizione bancaria di circa 90 milioni. Come questa mattina ha ricostruito uno degli addetti al servizio ispettorato della banca che all'epoca si era occupato di due verifiche sulla stessa concessione. Secondo questa difesa hanno pesato perché 10 milioni, diciamo, non è che sono bruscolini. Pare che siano stati concessi su delle garanzie non proprio fondate, perché si trattava di garanzie reali, di garanzie su finanziamenti. Per me non sono stati approfonditi praticamente, sono stati elargiti senza fare un approfondimento praticamente dell'eventuale ritorno delle somme prestate. Domani invece sarà il turno dello stesso finanziere romagnolo Pierino Isoldi chiamato a ricostruire questa particolare vicenda.